E' arrivato il momento di finire l'ultimo dei fari, il farro di Marte. E' il momento di salvare il mondo dalla sua imminente distruzione. Il problema è che non mi ricordo dove dobbiamo andare, zero, però noi ci proviamo lo stesso. Eccoci qua. Tu che tieni l'astro, apri il cuore e ascolta. Se vuoi salire al cielo, infiamma i quattro spiriti. Ok. Iniziamo a infiammare i quattro... Ah, non mi serve neanche rivelazione, perfetto. Dicevo, iniziamo ad infiammare i quattro spiriti. Tanto ormai, qualunque sia il nemico, non ho più veramente nessun dubbio che ce ne liberiamo facile. Ok, i quattro spiriti. Non so cosa dovremmo fare, non so chi sono i quattro spiriti, ma oggettivamente non vedo nessun problema. Ecco qua, un'ultima cassa con l'elmo Alastor. Elmo Alastor, persecuzione se usato. Wow. Bell'oggetto per l'ultimo posto che visitiamo. Non c'è nulla da fare, questo vuol dire che dobbiamo far scoppiare il muro. Dobbiamo fare un po' di Bomberman qui per passare. Kabumma. Facciamo scoppiare anche l'altro, giusto per sicurezza. Grazie. E proseguiamo, vediamo. Credo che quel drago romperà il muro di mezzo, però lo scopriremo esattamente tra poco. Ecco, prima di tutto, qui c'è una prima fiammella, ma credo che dobbiamo accenderla, vero? Questo vuol dire che questa via è l'ultima che dovremmo fare. Andiamo da questa parte e vediamo dove ci conduce. Allora, credo proprio che lì, esatto, si attiverà appunto il fuoco. Andiamo da questa parte, aspettiamo che la fiamma ritorna indietro, giusto per non abbrustolirci. Diamo fuoco, no, dall'altra parte, ho sbagliato, dall'altra parte. Diamo fuoco alle polveri. Ora che il passaggio è libero, facciamo scoppiare anche questo muro. Perfetto. E andiamo verso la scala, la scala che ci permetterà di andare di sopra ad infiammare lo spirito. Di qua dobbiamo passare per forza, immagino. Non c'è altro modo. Di qua possiamo passare di sotto e anche di qua di sotto. Ok. Qua dobbiamo spostare la statua. Andiamo di qua, spostiamo la statua. Ecco qui. Andiamo dall'altra parte e la spostiamo ancora una volta. Ora possiamo proseguire. E di qua dobbiamo fermare un'altra volta il fuoco. Fammi indovinare. Infatti. Grazie. Andiamo di sotto. Forzieri. Niente. Niente a sto giro. Peccato. Infiammiamo la statua. Ecco qui. Per un secondo. Questa animazione mi ha ricordato il drago cremisi di Yu-Gi-Oh. E la prima fiamma è fatta. Andiamo di qua dalla parte dell'uomo. E vediamo che cosa ci toccherà fare. Dunque. Altra torre. Niente c'è sta. Ok. Devo rivelare qualcosa. No. Si spostano solamente. Ah. Perfetto. Eccoci qua. Ok. Cos'è? Un minigioco trova la strada giusta? Allora. Iniziamo. Spostando giù la roba. Questo. E questo di qua. Li trasportiamo di sopra. Era talmente ovvio che non c'ho neanche pensato. E questo di qua. Questo lo mettiamo davanti alla bocca da fuoco. Ecco. Qui. Perfetto. E cerchiamo. Di non cadere dall'altra parte. Questo è uno shortcut. Perfetto. Quei quadrati lì servono palesemente a qualcosa. Potrebbe sembrare marmo. Ma proviamo. No. Avevo ragione. Perfetto. Vai. Aspetta che passa. Eccolo qua. Aspettiamo che passa di nuovo. Vai, vai, vai. Corri, corri, corri. Ecco qua. E ora proseguiamo. Per fortuna qui siamo già in cima. Ah, questa qua è verdognola come fiamma. Ecco fatto. Grazie. Due su quattro fatti. Andiamo dal delfino. Dove immagino la fiamma sarà blu. Nella torre del delfino. Che cosa facciamo? Ah, il ghiaccio. Vabbè. Non è sicuramente il mio preferito dei minigiochi. Però ci tocca. Tac. Ecco qui. Siamo caduti. Quindi così. E saliamo di sopra. Ok. Dobbiamo trovare modo di accenderli tutti e due. A naso credo che dobbiamo andare da questa parte noi. Attivare la fiammella che poi attiva il gas. Eccoci qua. Ok. Quindi abbiamo due cose di ghiaccio. Quindi a rigor di logica proviamo a fare così. Lasciamoci lo spazio per passare. Questo di qua quindi. Ecco fatto. Uno. Due. Ghiacciamo là. No aspetta. Non posso. A meno che. Prima esatto. Non spostiamo il tubo. E poi quello lì di sotto lo spostiamo per ultimo. Quindi due. Ed infine. Tre. Ecco qua. Si accende la fiammella. E tu mi dai una caramella. Diamo fuoco al gas. Beh. E' andata un attimo fuori sincro l'animazione però. Ora dovremmo essere in grado di passare. Perfetto. Siamo a tre su quattro. Ce ne manca solo uno dopo di questo. Chiaramente era blu questa. Non c'era neanche il dubbio. Grazie. Sì davvero sembrano le carte quelle spirito che c'erano in 5Ds. Che anche loro avevano le forme di queste creature disegnate sul terreno. Ognuna aveva un colore proprio. Com'è che si chiamavano? Gli immortali terrestri. Che erano difficilissimi da utilizzare quando sono usciti. Adesso mi ricordo che avevano fatto dei support per quel tipo di deck. Ma ovviamente è un deck molto particolare da utilizzare. Devi proprio crearglielo ad hoc. Poi io ormai sono lontano dal proprio mondo di Yu-Gi-Oh! Perché non pratico più da moltissimo tempo. Una volta facevo i tornei ma all'entrata in gioco degli Xyz non ci ho voluto più stare dietro onestamente. I Syncro ancora ancora li ho accettati. Erano bene o male una fusione diversa nel gioco ma sostanzialmente erano una fusione. Gli Xyz veramente ho detto basta. Non riesco a starci dietro. Nonostante ancora d'oggi tenga al gioco di Yu-Gi-Oh! Perché i giochi vecchi io li gioco ancora. Mi piace giocare con i mazzi sostanzialmente classici. Ma chiamatemi pure vecchio. Le versioni nuove di Yu-Gi-Oh! Io non riesco a starci dietro. Onestamente non so neanche come funzionino o cosa siano i Link. I Pendulum bene o male lo so. I Link no. I Link non ho idea di come funzionino. Ok intanto noi siamo arrivati da questa parte e non era la strada giusta. Andiamo dall'altra parte. Ok destra o sinistra? Proviamo sinistra. Ed era la strada giusta. O meglio dovevamo passare di qui ma è unilaterale si può solo scendere. Asta di Cloto recupera 1000 PS. Beh non male può essere utile a qualcuno ne dubito. Ah per uno in realtà è sotto all'asta che abbiamo dato a Genna. Peccato. Quindi ora andiamo da questa parte e ovviamente potremo passare. Qui dobbiamo fare attenzione. Allora qua rivelazione on the way. L'ultimo dungeon. Quello che ti fa usare letteralmente tutto quanto quello che hai appreso e ottenuto durante il gioco. Niente più niente meno. Eccoci qua. Uh perfetto. Qui hai proprio il tempo contato però ce la fai. Allora dobbiamo aspettare. Esatto. Che torna di sopra. Vai vai vai. Ecco qua. Vai. A posto. Ora ci facciamo spingere di sotto. Grazie. Ci facciamo sospendere anche da scuola. Grande. E via. Si va di sopra. Questa dovrebbe essere l'ultima. Speriamo. Ok. Dragone mega incazzato che ci spara una palla di fuoco. Ti giuro che pensavo sarebbe stato un mimic. E di qua nulla. Vai 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 vai. Oh cavolo. Devo usare rivelazione. Aspetta. Aspettiamo che faccio un'altra palla di fuoco. Rivelazione. Ho sbagliato. Vai. Ecco qua. A posto. Ora siamo in cima. Finalmente. E l'ultima fiamma. Chiaramente è viola. Vampa. Ed ecco qua l'ultimo immortale terrestre. Siccome non ho voglia di rifarmi tutto il percorso all'inverso. Ritiriamoci. E ci rientriamo direttamente. Jack ci siamo. Siccome non ho più neanche voglia di combattere contro nemici che muoiono con un colpo. Illusione. E curiamo tutta la squadra. Abbiamo completato tutti e quattro i muri. Hai dimostrato il tuo valore. Il cielo te attende. E questa è l'ultima zona che visiteremo per tutto il gioco. Un salvataggio. Ce lo meritiamo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.